Offensiva tutto tondo contro l'abuso di alcol e la detenzione e il consumo di droghe per i carabinieri della compagnia di Chiavenna che in 15 giorni hanno arrestato una persona, 26 denunciati a piede libero, tra i quali un ciclista di 37 anni residente nella città del Mera sorpreso in sella ad una bici elettrica ubriaco, 20 le patenti ritirate e 7 le segnalazioni per possesso di marijuana, hashish e cocaina. Nel dettaglio, nei guai sono finiti un 37enne di Morbenio trovato con 16 grammi di hashish e un ragazzo di 20 anni di Chiavenna che aveva con sé 12 grammi di marijuana e una modica quantità di hashish entrambi deferiti in stato di libertà. Segnalate alla prefettura di Sondrio, 7 consumatori, tutti della Val Chiavenna e di età compresa tra i 20 e i 47 anni trovati con sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 0,25 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e 25 di marijuana. Nell'ambito dei controlli alla viabilità, denunciati a piede libero 24 automobilisti di cui 8 dai 19 ai 42 anni sorpresi alla guida dopo aver assunto cannabinoidi e cocaina. 16 dai 18 ai 64 anni avevano invece alzato il gomito fino a raggiungere un tasso alcolemico da 0,85 a 1,84 grammi per litro di alcol rispetto al tetto massimo consentito dalla legge di 0,50. A tutti è stata ritirata la patente di guida. Infine i carabinieri agli ordini del comandante facente funzioni Francesco Migniti hanno arrestato un pluri pregiudicato di 52 anni residente a Dubino. Nei confronti dell'uomo i militari di Delebio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su disposizione del Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita di mezzi pesanti. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.